Ecco come si presenta la nostra storia di Pierino e Lupo all'interno di Google Moduli. Per entrare in modalità visualizza, premiamo il pulsante anteprima. Google Moduli è probabilmente l'applicazione che meglio si presta alla realizzazione di storie interattive che presentano ramificazioni nella narrazione. In Moduli, l'oggetto equivalente alle pagine di documenti o alle diapositive di presentazioni sono le sezioni. Queste possono essere arrangiate in modo non sequenziale. Inoltre, grazie all'oggetto domanda scelta multipla, possiamo creare vere e proprie ramificazioni e saltare da una sezione all'altra del nostro modulo, senza dover usare i link. Anche in Moduli abbiamo la possibilità di incorporare oggetti multimediali, come immagini e video, al cui interno non possiamo però inserire alcun link. Grazie. Grazie.